No, è più bello un po' parecchio, è un gente normale. No, nel senso che è parte di stagionare, nel senso che non è grossi. Salve, giornalisti voi. Ehi, si vanno qui. Allora, non si vanno alle quattro, si ne vanno a stare. Ah, ah, tieni, eh. Lascialo, lascialo. Lascialo. Lascialo, 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 lascialo. Grazie a tutti.